Leonardo Silva Reviso 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 è una parola inglese che vuol dire stai fermo, stai mobile, non ti muovere. Per me è importante questa parola perché è legata al risveglio. Infatti io voglio parlare del risveglio come un qualcosa che è necessario per distoglierci da questa inerzia, da questo non muoverci. Ed è importante muoverci in questo momento perché ci aspetta un futuro diverso da quello che immaginiamo, con dei rischi, e il movimento è fondamentale affinché questi rischi possano essere riconsiderati in forma positiva. Ovviamente io ne parlo dal mio punto di vista, io sono un architetto e quindi devo capire qual è il mio ruolo come architetto all'interno di questo cambiamento e di come posso intervenire, e soprattutto che importanza ha l'architetto, l'architettura all'interno di questo contesto. Il contesto di cui stiamo parlando è il contesto del climate change, un cambiamento che implica non il fatto che ci troveremo di fronte a uno scenario nuovo, diverso, ma che questo scenario cambierà continuamente, secondo per secondo, per i prossimi centinaia, forse migliaia di anni. Cosa c'entra l'architettura? Ogni volta che parlo di questo tema la domanda è sì, questo è un tema che riguarda politici, che riguarda i decision makers, che riguarda probabilmente gli industriali, le politiche industriali, l'economia. Ecco, questo grafico che voi vedete dice che la realtà non sta proprio così, il ruolo degli architetti è fondamentale. Se parliamo in termini di CO2 vedremo che probabilmente, anzi certamente, le emissioni di CO2 in gran parte vengono causate dalle costruzioni. Se consideriamo anche il sistema di trasporti e sommiamo questi due fattori, cioè consideriamo come la forma della città interviene nel sistema di trasporti, ci accorgeremo che la città di per sé è la principale causa di emissioni di CO2. Ecco che il ruolo dell'architetto diventa importante, se non determinante. E in realtà noi sappiamo anche quali sono gli ingredienti che dobbiamo utilizzare per rispondere a questa necessità. La ricerca ci aiuta, quindi sappiamo che si tratta di città più resilienti, nel senso capaci di adattarsi a questo mutamento. E questo mutamento porta con sé dei cambiamenti climatici estremi. Quindi le città devono adattarsi a questi cambiamenti climatici estremi. Il secondo aspetto è la compattezza. Dobbiamo aspettarci città sempre più densamente popolate, più compatte, perché le disponibilità delle risorse sono sempre più limitate. Dipende dal suolo produttivo. Maggiore la dimensione delle città, maggiore sarà la disponibilità di suolo produttivo. Questo mi porta a una conclusione, sapendo che la popolazione mondiale crescerà. Se non vogliamo arrivare a quella che noi nel centro di ricerca di Portsmouth chiamiamo equazione impossibile, dovremmo considerare un nuovo elemento, che è l'elemento fondamentale per il risveglio, è la creatività. Ecco perché noi parliamo di radical concept, parliamo di visionarietà, di capacità di vedere il mondo con occhi diversi. In realtà questo non vuol dire che parliamo di un futuro e non dobbiamo più rivolgerci al passato. Sappiamo che prima della rivoluzione industriale in qualche modo alcuni di questi modelli sono già stati applicati. Venezia è chiaramente una città radicale, una città visionaria, ma potremmo rivolgersi anche ad altri modelli come Shibam, nello Yemen, una città che in tutto e per tutto risponde perfettamente alle nostre necessità climatiche dell'aria in cui sorge il deserto, una città ultracompatta che resiste ai venti del deserto, venti caldi del deserto, ha questa superficie superiore bianca con un alto albedo che consente una riduzione drastica dell'Italian effect, una cosa di cui si parla spesso come se fosse un problema non conosciuto dagli antichi. Naturalmente anche quest'idea dell'essere visionario non è una novità di per sé. Sappiamo che esiste un periodo storico in cui la visionarietà è stata determinante ed è stata determinante proprio quel tipo di capacità di vedere il mondo in modo radicale che proveniva proprio dal mondo dell'architettura o dal mondo dell'arte. Mi riferisco al Rinascimento. Che cosa ha a che fare il Rinascimento con la crisi climatica di oggi? Ha a che fare che la crisi del 300 aveva caratteristiche molto simili alla crisi attuale. Una riduzione delle risorse, una popolazione che non era più in grado di accedere a queste risorse, un cambiamento climatico di tendenza opposta, si trattava di una mini-glaciazione, e terza, non ultima, la problematica legata al fatto che una malattia, la peste nera, era in qualche modo la ragione che tutta la società avrebbe dovuto cambiare in una forma diversa, avrebbe dovuto in qualche modo rivoluzionare economie e società. Questo è importante perché ovviamente il riferimento ai primi due fattori è abbastanza immediato. Il riferimento alla salute è altrettanto importante, anche se meno immediato. Sappiamo che il climate change sarà una delle cause principali di malattie nei prossimi vent'anni. Ecco che figure come Leonardo, visionari, cioè persone che sono capaci di vedere il mondo con occhi diversi, nuovi, senza la mappa mentale che ha condizionato noi, è fondamentale. Come facciamo oggi a fare, a coltivare questa capacità creativa che ci porti a un risveglio? Io ho una mia idea, la mia idea che nasce dal fatto che sono anche un educatore. Questo si può fare attraverso appunto l'educazione grazie al fatto che i giovani, gli studenti non sono condizionati come noi, dinosauri, da una visione del mondo che in qualche modo è determinata dagli ultimi cent'anni di storia. Quindi noi, il nostro lavoro è proprio di cercare di instillare in loro la capacità di essere creativi, inventivi, anche radicali, anche estremi. Vediamo qui una serie di lavori fatti da studenti e da collaboratori del mio centro di ricerca Media Hub che sono anche, come dire, oltre che studenti dei veri e propri ricercatori. Si tratta di Liam Stamwells in questo caso. Lui ipotizza una città che viene rivoluzionata dall'idea di eliminare completamente il traffico automobilistico e di riutilizzare il materiale delle autostrade per ricostituire un nuovo tessuto urbano. Qui vediamo un esempio della città di Oakland e delle conseguenze su questa città, come gli spazi destinati originariamente alle autostrade diventano dei parchi e delle strutture utilizzabili da tutta la popolazione della città. Vediamo che il sistema si cerca di fare utilizzo delle tecnologie più avanzate, come per esempio l'uso dei droni e il cosiddetto swarm behavior, la capacità dei droni di muoversi a sciame. e vediamo come la possibilità di modificare anche la performance della città diventa essenziale in questo ragionamento. Un altro esempio è utilizzare la botanica come strumento di rivoluzione della città, quindi i sistemi ecologici che nascono dalla modificazione genetica dei vegetali. Oppure disegnare una città, come nel caso di Naim Moukif, ipotizzando che la città deve essere disegnata non solo sui flussi umani, su quelli che sono i movimenti degli uomini e le loro necessità, ma anche su quello delle api che sono state dette proprio oggi è stato dichiarato il fatto che le api sono gli animali più importanti sul nostro pianeta. Oppure possiamo utilizzare del materiale cellulare di questo tipo, possiamo capire come si espande e quindi possiamo capire quali sono le tendenze di questi organismi di riassettarsi e allo stesso tempo possiamo anche capire come si può utilizzare direttamente questo materiale come un materiale per le costruzioni. In questo caso lo utilizziamo come brisolèl, come possibilità di rendere più opache le finestre controllando lo sviluppo fino a un estremo come questo disegnato da Joy Kwan che è la trasformazione di città in chiave totalmente organica. Qui vediamo un progetto di Michael Brewster e Bevin Liang che riguarda la possibilità di inserire l'automazione e la robotica nella città. Questa tecnologia consente alla città di essere resiliente nel senso che la capacità di adattamento dipende appunto da questa capacità questa dotazione robotica della città stessa. Utilizziamo anche se non si tratta solo di elaborazioni speculative si tratta anche di realizzare modelli che rispondono come in questo caso utilizzando un Arduino a queste ipotesi di progetto. Fino alla ultima città che vorrei far rivedere di questa serie che è una città nell'Antartide condizioni estreme in questo caso quello di cui stiamo parlando è della possibilità di utilizzare queste condizioni estreme climatiche del nostro pianeta come delle risorse ovviamente limitando il nostro carbon footprint tuttavia queste zone estreme producono delle risorse che sono utilizzabili. Qui vediamo esempi di questo sistema di città di questo sistema di stazioni che sono una forma di colonizzazione dell'Antartide e vediamo che in qualche modo questo sistema è molto simile a quello delle piattaforme petrolifere ma il suo obiettivo è completamente diverso è quello di utilizzare per esempio i moti marini e per esempio anche di ricreare un habitat che sia favorevole alla relazione per esempio tra uomo e animali qui vediamo come in qualche modo si crea una relazione con la fauna oceanica ora la domanda quando io parlo di questi aspetti generalmente è quanto costa quanto costa cambiare la domanda non è casuale perché apparentemente è una domanda retorica in molti sostengono che cambiare costerebbe moltissimo in fondo la nostra società si basa sui combustibili fossili e quello è come dire mantenere questa condizione è certamente secondo molti una condizione più favorevole dal punto di vista economico la risposta no è no no vuol dire che cambiare costa meno che mantenere lo status attuale non abbiamo tempo di elaborare ma bastano poche immagini per capire che così non è qui vediamo una piattaforma petrolifera di ultima generazione che va a scavare che va a succhiare le ultime gocce di sangue del nostro pianeta dalle profondità dell'oceano con dei danni irreversibili alla biodiversità la seconda obiezione è le città che vi ho fatto vedere sono convinto se lo chiedesse a voi forse più della metà di riterrebbero che sono visioni distopiche e molti di voi hanno già detto al proprio alla persona vicino ah sì interessante forse sperabilmente però non ci vorrei mai vivere questo è interessante perché probabilmente è corretto non ci vorrei mai vivere però cos'è la distopia se non anche una condizione di non familiarità con una certa condizione perché la nostra condizione naturale è questa noi non viviamo in case di campagna col giardino viviamo in queste condizioni l'80% della popolazione mondiale vivrà vive già oggi e vivrà in queste condizioni probabilmente molto di più o quella a sinistra o quella a destra 50 e 50 siamo sicuri che questa condizione non sia una condizione distopica o semplicemente la nostra sensazione che l'ambiente che viviamo tutti i giorni sia confortevole non sia solo legato alla familiarità in quest'ambiente questa è una domanda a cui mi piacerebbe non dare una risposta probabilmente avrete già capito che quelle città in qualche modo ho scelto degli esempi che cercano di dire una cosa molto precisa cioè di stimolare questa discussione per me sarebbe stato facile far vedere a voi modelli molto più rassicuranti per concludere vorrei dire che per il risveglio è necessario vedere come avrete capito dal mio punto di vista il mondo da una prospettiva completamente diversa io sono stato fortunato per lavoro per ricerca ho potuto trasferirmi in Nuova Zelanda e questo ha consentito mi ha consentito di vedere il mondo in realtà proprio dal luogo più lontano dall'Italia dal mio paese e anche dalla prospettiva più diversa dal sud del pacifico e soprattutto di una fauna di un contesto ambientale estremamente diverso dal nostro anche se si dice che duemila anni fa anzi prima dell'impero romano la Nuova Zelanda assomigliasse molto a quella che era l'Italia quello che mi colpisce particolarmente della Nuova Zelanda è la biodiversità e le caratteristiche della fauna considerate che la Nuova Zelanda è un luogo dove gli uomini non sono arrivati fino al 1200 1300 i maori e nel 1700 siamo arrivati noi gli occidentali a colonizzarlo quindi si è creato un habitat naturale estremamente diverso da quello che conosciamo il cacapo secondo me o cacapo è un animale che rappresenta un po' questa condizione immaginate che il cacapo è un animale che non vola nonostante sia un pappagallo di grosse dimensioni e quando deve riprodursi sceglie uno delle decine di vulcani che si trovano per esempio a Oakland centinaia forse migliaia in tutta la Nuova Zelanda e va in cima a questa collina una volta che in cima a questa collina comincia a urlare questo è il suo modo di attrarre la cacapa la sua compagna che per riprodursi a sua volta sale questa collina ora io rifletto sempre su questa condizione perché io vengo dalla Toscana immagino un cinghiale che salga su un colle e che urli non so quanto tempo passerà prima che un cacciatore vada a prepararsi la cena richiamato da questo segnale un altro aspetto molto interessante è che il cacapo a un certo punto della sua vita ha trovato ha incontrato l'uomo e quello che ha fatto il cacapo quando ha incontrato l'uomo per la prima volta è questa cosa qui ha fatto freeze cioè si è fermato si è bloccato sperando che il cacciatore non lo riconoscesse che pensasse che il cacapo fosse un albero o una pietra ecco immaginatevi il successo di questa strategia e rischi che anche oggi di istinzione che anche oggi sta correndo il cacapo o il cacapo ecco vorrei concludere dicendovi questo che in fondo il cacapo siamo noi oggi e spero che questa sia una riflessione che voi condividerete con me grazie